Onorevole Fedriga, quanti militanti dal Friuli oggi qui a Pontida? Centinaia e centinaia, un successo sopra ogni aspettativa, ma d'altronde la Lega non è nuova sorpresa, ci fa ogni volta sognare ad ogni campagna elettorale, ad ogni votazione, perché la gente crede nel nostro progetto e qua a Pontida si vede. Sono orgoglioso anche della mia regione, della mia nazione, che ha potuto portare molti militanti, addirittura molti sono dovuti venire con mezzi propri perché non avevamo abbastanza pullman per portare le persone qui a Pontida. Quali le aspettative dei militanti che oggi con lei sono venuti qua a Pontida? L'aspettativa è che la Lega riesca a portare avanti, come ha fatto in quest'anno il governo, i programmi per cui gli elettori l'hanno votata. Un successo in quest'anno che si ricorda nella storia della politica del Paese, perché per la prima volta in così poco tempo vengono rispettati i così tanti punti del programma. Così la gente si aspetta che noi andiamo avanti, ma così anche noi parlamentari e tutti i dirigenti della Lega sono motivati perché solo con la forza della gente, solo con la forza dei militanti della Lega Nord siamo riusciti ad ottenere tutte queste vittorie.